si chiama? aerobatics extra 260 con hacker 30 perfetto, andiamo la stacco subito e controllo subito, tanto mi serve solo subito no, mi gioco che non dobbiamo partire, ma ora? no, 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 questo non è possibile ma aspetta, c'è il portatile, ma controllo subito, perché c'è il power, no, non so se fuggia il power no, la sopra devi riuscire questa è l'altra elica, è giusto? no, si fa senso, il passo è detto 8 e l'altra invece? 13 per 6,5, è qua dei metri, è il video della metri, vedi che ti rimane appeso con un elicottero avrai molta più accelerazione andando molto più piano, è come se ora stai in quarta e dopo sarai in terza, va dire, in quinta con la marcia della macchina il park master, peccato che costa un po' di più io l'ho comprato ieri, lo sta montando Gergo, oggi poveriggio lo vado a prendere avevo il regolatore e i servi miei e mi è venuto 160 euro ciao Carlo, vediamo il pilota, posso? mi piace ciao Grazie a tutti.